Il sequestro preventivo del Palazzo di Troia a Lucera è stato disposto dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica, richiesta giunta al termine delle indagini che avrebbero accertato omissioni penalmente rilevanti in ordine alla necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria del Palazzo di Troia, immobile di proprietà del Comune in cui ci sono uffici comunali, oltre quello del Giudice di Pace. Le indagini sono state svolte con l'ausilio di un collegio di consulenti tecnici nominati dal PM riscontrati crepe all'esterno del Palazzo, distacco di parti di volta all'interno dell'edificio, distacco di calcinacci e d'intonaco all'esterno e all'interno dell'immobile. Le indagini sono state svolte con l'ausilio di un collegio di consulenti tecnici nominati dal PM riscontrati crepe all'esterno del Palazzo, distacco di parti di volta all'interno dell'edificio, distacco di calcinacci e d'intonaco all'esterno e all'interno dell'immobile. Per scongiurare pericoli per i cittadini che ogni giorno si recano presso gli uffici comunali è stato disposto il sequestro preventivo. Al vaglio della Procura è emerso un quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati di omissioni di atti d'ufficio e omissioni di lavori a carico di soggetti aventi ruoli apicali nell'amministrazione comunale.